Ora lo sport volley serie A2 maschile, il sogno è diventato realtà, Grottazzolina entra nel salotto buono della pallavolo italiana, la Juasa infatti ha vinto, ieri sera gara 2 della finale contro Siena, 3 a 1 il risultato che issa un comune di 3200 abitanti nel gota del volley italiano, 500 i tifosi marchigiani a sostenere la Juasa nel gigantesco palaestra della città toscana. Un botta e risposta continuo, il primo set è di Grottazzolina, il secondo è di Siena, il terzo parziale è un capolavoro per la Juasa che alla fine si è ritrovata con ben 12 set point, punto a punto invece il quarto set ha chiuso i giochi, un ace di Fedrizi 19-25, festa senza fine, il prossimo anno ci sarà dunque il derby contro la Lube Civitanova. Bello questo abbraccio che vedete tra il coach di Grottazzolina Massimiliano Ortenzi e il coach di Siena Ciccio Graziosi che è di Falconara.